Da agosto a maggio, 10 lunghi mesi vissuti insieme a voi, telespettatori, per tenervi aggiornati su tutto ciò che ruota intorno all'Avellino Calcio, ai nostri amaticolori bianco-verdi. Mesi intensi ed anche difficili per un risultato arrivato in extremis al photo finish, particolarmente sofferto ma probabilmente per questo ancora più bello. Un epilogo che tutti ci auguravamo potesse aggiungere anche con qualche settimana di anticipo, ma fortunatamente oggi possiamo raccontarvi di una salvezza e dell'approssimarsi della quinta stagione consecutiva in Serie B. Un evento, questo, risalente solo agli anni 70 della gloriosa storia calcistica erpina. È già tempo di volgere lo sguardo al futuro, quello prossimo, prendendo da esempio e insegnamento gli errori commessi quest'anno. E così stasera Prima TV e Tele Nostra, media partner dell'Avellino per questa stagione così difficile ed impegnativa, vi proporranno un'ultimissima puntata di Contatto Sport assolutamente da non perdere. In studio con noi il direttore sportivo Enzo De Vito, che dopo essere rimasto spesso in silenzio durante la stagione, è pronto a raccontare passato, presente e futuro del club bianco-verde. Con noi ci sarà anche il capitano, Angelo D'Angelo, autentica bandiera dell'Avellino, che il prossimo anno potrebbe tagliare il traguardo dei nuovi campionati consecutivi con i lupi. Calcio ed anche basket con la presenza del direttore sportivo della Scandone Nicola Alberani, tra gli artefici principali del miracolo sportivo chiamato Avellino, capace per due anni consecutivi di arrivare alle semifinali Scudetto. Insomma, un parterre d'eccezione per un'ultima puntata da non perdere sulle frequenze di PrimaTV e Tele Nostra, in diretta dalle 21 e 25 e di live streaming sul sito primatv.it. Vi aspettiamo come sempre numerosi!